Ciao Guaio, eccoci con FIFA 15 Avremo da giocare una nuova partita di Champions League Stavolta contro il Liverpool Saremo anche in casa loro, siamo ospiti Vediamo se avremo da affrontare Mi sembra di non intravedere Balotelli E quindi siamo pronti a partire Assolutamente necessaria la vittoria per poter continuare La nostra rincorsa alla Champions League Spettacolare il tifo del Liverpool I nostri tifosi si intravedono in fondo a sinistra nella curva Devo provare ad accelerare ma Si era fatto subito vedere il difensore addosso a noi Quindi ha preferito passare Bella questa, ti prego, fai il gollo Ed è gollo, ed è gollo grandissimo Ci voglio bene Che sono curioso di capire ancora meglio come è stato questo gollo Perché non ho capito come è rimbalzato appunto sul portiere Eh mamma mia però Portiere grande papera Ma a me che ce frega, l'importante è il gol 1-0 per noi Oh boh, si va a vedere subito avanti Si accenta il tiro ma Il difensore non si fa progare per fermare palla Ma se riusciamo a ottenere palla al centro Oh boh, si gira Il tiro ma stavolta il portiere sta ben attento Peccato che la palla era troppo centrale Quindi Sarebbe interessante recuperare palla adesso Perché potrei scapparmene proprio in contropiede In un contropiede assurdo potrei scapparmene Potrei scapparmene in un contropiede assurdo Peccato che il difensore è stato bravo a seguire i nostri movimenti Siamo oramai al quarantesimo Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa in questi ultimi minuti del primo tempo Se noi o loro Ma sono bravi i nostri difensori a proteggere quella zona del campo Vediamo se i nostri compagni riuscissero a recuperare palla Bravissimo Vediamo se riusciamo a farci lanciare per quest'ultima azione Si che ci siamo riusciti Si che ci siamo riusciti Oh boh, un po' se c'entra Il tiro e il palo Maledizione, maledizione Poteva essere il 2-0 questo Che palo, che palo, che palo Le mani nei capelli di Pup Provare a rifarci quindi nel secondo tempo Forza Quanto prima ora l'arbitro fischiera Viamo in questo secondo tempo Sotto la curva del Liverpool Cosa riusciranno a fare se I tifosi riusciranno a metterci pressione Bellissimo questo passo di prima liberale Il compagno, grande, ulteriore, ottimo servizio sulla fascina Bravi ancora i difensori È stata bellissima quest'azione Però è peccato che non si sia confusa Con un bel gollo Ci stava tutto Pupupu prova il tiro Ma era troppo distante Troppo distante Per pensare a qualcosa di buono Intercettano bene il pallone E provano a ripartire Alberto Moreno Starridge Baragna metri verso l'area Sogno a fare attenzione Alle azioni del Liverpool Peccato per il fuorigioco Ci siamo andati al fuorigioco Bellissimo questo servizio di prima Il tiro E' diventata quella palla Non ci posso credere Ero convinto arrivasse a noi Invece Ragazzi Guardate che spettacolo Questa nuova ripresa Fantastica No gollo Bella 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 Questa ripresa Prova a richiamare palla Come Pupu Mamma mia Che crangollo Che crangollo Vincita Rihanna E siamo sul 2-0 Bravi Ma da dove ha fatto gol Bravissimo Con questo colpo di testa Grande In ogni caso L'avremmo comunque meritato Per l'azione precedente Quindi Giusto così il risultato Anche perché Liber come se dobbiamo dirla tutta Non ha ancora fatto Un tiro in porta Quindi Il risultato è più che giusto così Intanto si sta abbassando la nebbia Sul Sul campo inglese Vediamo se provo ancora A dar fastidio Niente da fare Ai giocatori del Liverpool Vengono loro a recuperarmi Ma Quanto a meno Stanno dando un pressing Spettacolare Per protezione Nella nostra Metà campo Grande ancora La fase difensiva Vorremmo spostarci al centro Sicuramente la palla Andrà lì Invece Ottimo Il cross Diamo se riesce a servirci Grande servizio Spingiamoci Verso il centro Andiamo a saltare i due Andiamo a saltare i due E si allunga la palla Pupu All'invita dell'area Ma purtroppo Il tocco del difensore Ma è calcio d'angolo per noi Grandissima azione di Pupu A scapparsene dalla Nostra area di rigore Il Liverpool sta facendo sempre più pericoloso Bravissimi ragazzi Col pressing E' così che si gioca Bravi Mi stanno piacendo un sacco In questa partita Questo è il gioco Che vorrei vedere sempre Questo è il pressing Adeguato Senza mai fermarsi Sempre pressing Che li mandiamo sempre in difficoltà E il pallone se ne va via Si contendono il controllo del pallone Provare a incorrere la palla Guardate il portiere dove è arrivato Guardate il portiere dove è arrivato Ma si chiude qui la partita E soprattutto si chiude con la vittoria Per il nostro Borussia Dortmund Un saluto a tutti voi da Messeropupu Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buon incontro Arrivederci Arrivederci Grazie a tutti